Da bambino mi piaceva l'idea di costruire aeroplani ma mi venivano sbagliati nel senso che li facevo troppo pesanti però l'idea della leggerezza mi ha sempre affascinato con B&B quando è partita l'idea di disegnare un nuovo prodotto per l'esterno l'idea della leggerezza è stato il codice facciamo un prodotto leggero a cavallo tra un aeroplano e una bicicletta quello che a me interessava era percepire la natura che ti circonda un segno architettonico molto semplice completo o con il massimo della possibilità di aprire un dialogo con quello che ti sta intorno Io ho portato provocatoriamente l'idea di un aeroplano è un corpo un telaio in alluminio superfici che stanno a contatto con i cuscini o superfici che in qualche maniera fanno la parte strutturale del progetto lavorati come se fossero delle ali da aeroplano Borea nasce per essere sostenibile al 95% quando finirà la sua vita verrà riciclato nuovamente e diventerà un'altra cosa un'altra macchina una lattina un altro divano o se volete un aeroplano Grazie a tutti Grazie a tutti